Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale siamo qui su raft come potete ben vedere da questo rompimaroni ci sta demolendo tutta la nave, allora continuiamo dal precedente gameplay qui sull'isola che ci sta portando via un bel po' di tempo, questo me lo tengo la batteria regge per il momento acqua ce n'è possiamo ripartire riprendiamo la nostra esplorazione dell'isola credo che per il momento per il momento diciamo mi resti ancora da esplorare le profondità marine di quest'isola più che altro adesso arriviamo al punto come sempre io ragazzi vi invito e vi ricordo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale attivando la campionina notifica per non perdere nessun gameplay lasciate come sempre un bel pollicione in su che andavanti qui del milion like commentate condividete il video a destra manca inoltre in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale come per la donazione trovate il link di telegram e discord seguitemi anche lì allora sta bicicletta qua non funziona diciamo noi dobbiamo solo per il momento seguire sto bel posto qua proviamo a seguire il tubo anche se devo dire che ti pareva osteria e non faccio tempo però a far tutto io a raccogliere a uccidere i nostri amichetti acquosi vediamo se mi viene dietro ok quello si è fermato ok si è sgonfiato recuperiamo tutte le frecce che sono quelle che più mi servono allora ce n'è un altro lì vado avanti ad uccidermelo io intanto la ce n'è un altro ora mi chiedo se io voglio andare giù c'era un altro lì però meglio che lo lasciamo la purtroppo però non ho comportato con me il gancio diciamo il gancio si sta per rompere purtroppo non è che durerà ancora un granché qua cosa c'è uh aria bene 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 ora si spiega come posso fare a scendere già che sono qua finché regge ma credo che sarà l'ultimo questo l'unica cosa è che devo stare attento e ok a dove vabbè stavo per dire devo stare attento agli animali nostri amichetti lì agli animaletti allora proviamo a seguire il tubo si è rotta a sto punto a sto punto seguiamo il tubo piccoli problemini tecnici eh te pareva cazzarola ok questo magari despauna c'è qualcun altro che dovrei andare a farmi un rametto però prima ok eccomi di nuovo qua sono andato a farmi un gancetto che almeno il problema è che forse non avrò il tempo di star qua a recuperarmi tutto di fatti vedete ho perso tempo non dovevo maledizione dai dai oh che fortuna ok vediamo un attimo se abbiamo compagnia mi sembra di no avevo visto qualcosa però venendo qui ah eccoli qua cosa è stravarla a me pensavo fosse qualcosa di nuovo ah ma non siamo arrivati al punto massimo ah ok vabbè ah megoionis aspettate perchè questo mi sembra un po' danneggiato ok vediamo se questo non è nulla ok da qua non si va però abbiamo compagnia eh purtroppo non ce la faccio fuori è notte per cui credo che anche qui sotto si veda un po' meno no cazzarola c'è anche una cassa qua qua c'è ancora bella roba però oh ma c'è del ferro qua troppo c'è un limite ai miei spostamenti diciamo che proviamo a scendere a sto punto anche se è un po' buio purtroppo però no è esploso spero ci sia aria qua dentro perché sennò sono fottuto per fortuna che c'è qua chiave dell'infermeria o l'ultima parte della terra ferica progetto metal detector però maremma o maremma avvelenata e amici non ce ne sono più vero spero ma che sennò qua si mi stanno ne stanno eh te pareva ti te l'ho detto io porca trota no morire no maledizione per un pelo e qua che cacchio c'è e qua che cacchio c'è maledizione no 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 eh sono ancora troppo che cacchio ho trovato minerale di titanio minerale di titanio beh niente devo aspettare perché sono troppo deboli ancora per adesso ho perso perfino il gancio ho perso la mucca domando se il mio gancio è tornato su allora niente purtroppo perso il gancio e non posso farci niente l'ho buttato via adesso non ricordo se sale in superficie o se però qua non lo trovo vuol dire che è tornato su a sto punto torno su perché qua giù c'è ancora bella roba per cui da recuperare mi serve il gancio purtroppo mi manca fratellità una corda e almeno porto giù le cosette che ho trovato qua in giro ok arrivati qua le azzattera adesso depositiamo quello che abbiamo trovato ci però finché no 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 mamma per un pelo mi stava buttando giù tutta la zattera sto gran figlio di una buona droga maledizione non pensavo arrivasse così avanti anvedio appena in tempo appena in tempo se andava giù mezza zattera andava giù sto gran figlio di allora qua dovrebbe esserci una cassa da mettere qualche qua sta andando proprio un po tutto a rotoli poi siccome sempre dobbiamo sempre sistemare abbiamo persino il linguento stavolta per cui in teoria dovremmo essere al massimo delle capacità torniamo giù vediamo di recuperare tutto sarà difficile comunque qua abbiamo già compagnia già i primi livelli sembra di ricordare qui è un po' di ricordare tutto è vero Allora dobbiamo apprendere Allora sono andato giù però purtroppo come potete vedere dal mio inventario non è andata molto bene Dobbiamo prendere questo e questo Abbiamo preso il metal detector e i fuochi d'artificio Allora in teoria abbiamo le tre funivie che dovrebbero risultarmi utili a fare un po' di cose Però purtroppo a sto punto devo sistemarmi l'inventario Allora dopo essermi recuperato un bel po' di cose però mi manca l'acqua Ok proviamo ad andare su là E a vedere se mi da la funivia Ok 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 Allora siamo arrivati eccoci qua Vediamo se adesso mi fa Sì Ora è di sviluppare la ricerca apparecchiatura per teleferica E cos'è che mi ha dato Progetto apparecchiatura per teleferica E teleferica Apparecchiatura per teleferica Ah ma è Ah ma è da indossare Ah Bene Ah già che ci siamo ora proviamo Proviamo ad andare lì Salta giù Ah però Diamo un'occhiatina qua in giro Qua che c'è il cappello del sindaco Ora è di sviluppare carica batterie Richiede una chiave del forziere del sindaco Ah però E qua Dov'è il Messo Qua siamo sicuri che siamo a posto Eh è qua Eh Oh cazzarola Qua non ho portato la pala Va bene Bene Diciamo che siamo andati Insomma Ora possiamo sia esplorare tutta l'isola Uè Ehi qua sopra No Aspettate un attimo Ok No Perché mi ha fatto andare giù Il forziere del sindaco Mi serve una Mi serve una chiave per aprire lì Vabbè Dovrò cercarmela Anche la Anche la si va E mi manca una isola Comunque Quella di là Per il momento Sinceramente speravo di metterci meno Mi sembra di aver visto una cassa Ah no No Non ho visto una cassa Allora ragazzi Siccome la teleferica Mi sembra che Si Degradi Ok Andiamo a mettere giù un po' di cose Anche perché non ho più lo zaino Purtroppo Ho perso Avendo Essendo morto Ho perso tutto Poi Adesso le palme Sono cresciute Riesco a farmi L'altra bottiglia Perché Ho le fornacce Che non funzionano più Maledizione Che rompi I maroni Che è questo Vorrei avere lana in giro Che poi Forse me ne mancano due Esatto No Me ne manca una Per fortuna Allora Diciamo che Siamo sulla buona strada Lì l'abbiamo messa giù Questa è mia La pala Per la prossima volta Avevamo detto Che c'era C'erano Le palme Allora ragazzi Me lo do un po' Che sto registrando E che me la sto Andando A cercare Qua non è pronto Non da nemmeno Allora Io per il momento Mi fermo qui Come sempre Io vi ricordo E vi invito Se non l'avete ancora fatto A iscrivervi al canale Mi raccomando Attivate la campbellina Delle notifiche Per non perdere Nessun gameplay Che pubblico Lasciate come sempre Un bel pollicione in su Che andiamo avanti Qui dei milioni like E vi ringrazio Commentate Fatemi sapere La vostra Ok Adesso abbiamo Anche l'ultimo Pezzo di lana Fatemi sapere La vostra E quando vedete Il video A destra E a manga Con amici Parenti Cugini Zini Nipoti Che più sciamo Meglio è Inoltre tutto In descrizione Trovate un link Che vi permette Di supportare il canale Con qualche piccola donazione E vi ringrazio Trovate il link Di telegram E discord Dove potete Seguirmi Anche lì Allora Io per il momento Mi fermo qui Mi faccio un attimo Lo zaino Perfetto E anche questo È fatto Usiamo un po' Più di Contenimento Io mi fermo qui Noi ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao a tutti E grazie Per essere In mia compagnia E alla prossima Ciao ciao